Musumeci contro la riapertura delle scuole. Il presidente della regione è per la ripresa delle lezioni negli istituti solo quando la curva epidemiologica rientrerà. Posizione condivisa dall'onorevole Mancuso che sostiene che debbano essere maggiormente tutelati i bambini e i nonni e propone la DAD per elementari e medie. Sono convinto che oggi è più che mai necessario l'idea di poter mettere in DAD i ragazzi e soprattutto i bambini di scuole medie e di scuole elementari. Perché? Perché se da un lato è vero che dobbiamo incentivare i vaccini, la terza dose, se da un lato dobbiamo cercare di convincere coloro i quali non credono nei vaccini come un'opportunità che invece lo è, lo rappresenta e lo dimostra ogni giorno, dall'altro lato sicuramente riuscire a salvaguardare la salute dei più piccoli, i più piccoli che hanno contatti come sappiamo con i genitori, con i nonni che non dimentichiamo restano sempre una categoria a rischio. Io credo che per qualche settimana non cambia niente al mondo se questi bambini ce li conserviamo bene a casa, custoditi e al sicuro. Che al di là degli impegni personali e di lavoro che ognuno di noi può avere, sicuramente la salute dei nostri piccoli è prioritaria su tutto. Il mondo della scuola attende le prossime ore per capire quali saranno le mosse, vista la dichiarazione del governatore della Sicilia che parla di riapertura delle scuole il 10 gennaio, solo se i contagi caleranno nelle prossime ore, quindi solo se la curva epidemiologica si abbasserà e si eviterà di ricorrere a misure più restrittive, necessaria la prudenza dei genitori. Grazie.